e bella a tutti ragazzi e ragazze bentornati in questo nuovo video di gunfo of boom oggi siamo in compagnia di gx max 08 saluto massi ragazzi oggi proveremo ad arrivare nelle alle 200 coppe e di e vi dovete iscrivere al canale il mio canale si chiama giovanni staccato sarra staccato fiore invece quello è di iscriversi anche al canale di di massi ovvero massimiliano staccato pirrone e niente godetevi il video a massi quanti like raggiungiamo quindi raggiungiamo in 30 like e niente godetevi il video ora però si mettete like perché se mettete like vuol dire che ci state esatto e che ci state supportando ovviamente ciao ragazzi mi sta allagando se vedete a sinistra sotto le tre lineette ho tipo 500 di ok mi si è abbassato sì ma stiamo andando non sono morto io ce la fai si vai cambio giuro che ho lasciato white forse si è curato il fatto no no quello che ho detto l'ho ucciso non ti dà le cure no ne ho zero io non ti posso dire niente aspetta prendi il pompa e questo me lo dite esatto è arrivato il compagno e viva distrutto bravo bravo mamma mia ma sono un killer bravo io dalla lontananza ne prendo le persone ok no se mi cita no fallo venire che lo disintegro io mi sono preso l'affettatore affettatrice come cacchio si chiama qua ma è di una potenza si lo so l'affettatore è forte ma dai poi lascio tutti che ho un po capito cos'è sta mafia basta usare questo chimi prendo il bufalo no si il bufalo certo che si fucile hanno uno ma è strano si questo qua tipo si chiama hans non l'ho capito si quello con hans c'entra qualcosa c'entra con hans no 400 mattisi di vita gg bello gg fratellino culati ma è scemo stanno sparando a questo qua non si cura ma sei scemo ma ne ho tre persone da cioè avevo tre persone sopra e non mi speravano stiamo perdendo male e questo vuol dire che non state mettendo like ragazzi supportateci vi prego ecco ma porco giuzzi dai che faccio la kill con l'affettatore nemmeno non ti rischierò a toccarlo grazie prendo il bomba per andare pastor di dentro mi pare che ho preso l'affettatore no cosa ragazzi l'avete visto che botta di laggata che mi ha tirato eh l'avete visto tutti speriamo di si ma perchè mi uccidono col veterano ma dai ma quando abbiamo la stessa arma e mi uccidono un cravolo però ragazzi anche l'obiettivo di oggi è arrivare a livello 5 sì ho l'affettatore ah c'era anche il mirino non l'ho visto secondo me l'affettatore è illegale no è una bestia no ma è anche una bestia illegale fortissimo e dai in due mi hanno sparato io l'ho fatta la killio da tutte le persone ragazzi questo vuol dire li abbiamo superati di poco vabbè questo vuol dire visto che l'abbiamo superati vuol dire che avete messo mi piace vero ma sì sì però non smettete di farlo cosa più importante no con 200 di vita ok l'abbiamo fatto rimanere abbiamo vinto il gare e sgare amici sì questo vuol dire che ci hanno supportato esatto ritogliamolo io penso che sono arrivato alle 200 coppe sì forse sì sì forse sì ci sono arrivato anche tanto io alle 171 sono arrivato aspetta che hai messo guardando un video per ricevere molte più cose cioè molte io pure ma le stesse cose però ne dicevo di più va no a me me l'aveva detto che cosa ragazzi scusate ma mi vuol dire anzi no ragazzi aspettiamo massi 211 coppe buono buono tra poco arrivo a livello 5 a livello 6 scorsiamo ma 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 si è forte il becchino il? il bufano e il becchino sono forti sì sì il bufalo com'è? quanto toglie? aspetta che te lo dico il bufalo ha una potenza di 400 precisione 40 raggio 29 e 60 di munizioni invece il becchino ha 400 di potenza 88 di raggio e qualcosa si comunque sono forti sono forti io li uso uso il becchino io sto usando l'ansia invece che lo è il bufalo non lo uso si lo uso quasi sempre per ora che mi non avevo visto che sta cosa si sbloccava che il lancio si sbloccava ma che cazzo ha tirato una granata? io ma perchè? ma così mi sperciavo comunque aspetta io prendo il cecchino e faccio i buchi ora quale hai? non c'ho il becchino non mi sto vedendo ah c'hai che cosa qua come si chiama? questo qua si non mi viene come si chiama un ucciso vabbè comunque il becchino lo sai il becchino non è un fucile cioè non è un coso un fucile col midino soltanto perchè questo qua che hai ora giovi fa un colpo alla volta giusto? mhm il becchino ne fa tanti alla volta uno alla volta allora ho capito il becchino l'avevo preso ora ora il becchino da uno che avevo ucciso vedi se vedi il becchino ne colpisce cioè fa tanti spari ora aspetta che me lo prendo no 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 ma vi guarda guarda qua dietro lo so lo so anche se metto il midino guarda quanti colpi spari capito? capito dai ragazzi mettete mi piace in questo caso vuol dire si capito il becchino è molto male ma se io mi prendo il becchino e mi metto qua secondo te la piglio le persone forse lo sai che ho il becchino eh? no no non c'avevo il becchino comunque uno lo lascia a toco con pochissima vita oh e lo uccide il max 08 col becchino cioè per chi non lo sapesse che cos'è un cecchino mamma mia due kill non c'avevo addirittura mi hai fregato la kill quindi oh no l'hai fatta tu ma prima pensavo che mi hai fregato la kill ti sto porco no l'ho lasciato e l'ho lasciato con pochissima vita uno ok con pochissima vita non l'ho ucciso io ora mi metto qua vedo chi c'è e chi non c'è io non ho capito una cosa prima ci hanno superato alla grande no dai no ragazzi questo vuol dire che lo state mettendo mi piace dovete spammare dai ma mi distruggono dai ma mi distruggono dai ce la possiamo fare perché io non ci arrivo da qua come siamo arrivati a tu c'è ah il veterano è quello che hai tu no come siamo arrivati a tu c'è no forse non ho il veterano sì è il veterano l'ho visto io mi aiuti li ho lasciati tutti con pochissima dai 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 ah si sta curando ecco perché si stava curando non mi riesci a sconfiggere dai ragazzi mettete mi piace io ovviamente non mi posso curare e infatti che schifo buonasera ti ha ucciso ti ha ucciso ma due no ero la sopra che uccidevo quello mentre mi arriva uno da non so dove madonna c'è schifo di giorno ma fa schifo fa schifo basta oh godo ma non sai quanto io ora basta prendi il bufalo e gli faccio i portusi ah il bufalo? sì come te lo sei messo? no me lo sono rubato da uno ok fatene a cagare tengo no l'ho lasciato con pochissima vabbè tanto anche se li uccidiamo ragazzi questi erano forti molto forti i nostri compagni invece erano scarsi come noi ma tu sei stato uno dei giocatori migliori ah no ah tu e che cosa? 128 punti ho fatto io ho meno 15 coppe io pure ma quanti minuti del video? 14 ragazzi forse purtroppo forse questa sarà l'ultima partita troppo tardi l'ho fatto va bene lancia sempre buono Granate, granate Eeeh, super Granate 5, 4, 3, 2, 1 Nulla, tenente Che ho avuto un po' buono Ce ne andiamo a fancuore Ebole Ce ne andiamo a fancuore Mi stanno, mi stanno sparando E io ci, ci sto morendo Ho sbariato No, 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 ecco la No, ma, ma non ci credo C'è uno Uno ha ammazzato Uno ha ammazzato un altro col coltello No, ma c'è uno della squadra avversaria Che è normale, col coltello No, c'è uno della squadra avversaria Che è un livello altissimo È un'arma che Chi è? È un'arma quella di tempesta Tipo Sì, sì, ah, sì L'ho capito, l'ho capito Questo qua che si è preso ora Buono, l'ho capito Sì, sì, l'ho capito L'ho capito Quello vuoi dire Ma tutto Mi sparano Ah, da dietro mi sparava sto cretino Da dietro col coltello mi è venuto E lo so, infatti, anche a me Ma sì, ma ti ha ucciso Sì Ci stanno supportando per ora Però Siamo scarsi lo stesso Quindi non serve a niente Forse serve a qualcosa Guarda, ma ti trovo Fai conto che nella nostra squadra di forti ci siamo io e tu Perché gli altri sono denabili Capito Fai conto di questo Gli altri sono denabili e non sanno giocare Noi siamo in prova e sappiamo giocare anche bene Infatti, guarda che kill da lontano ti faccio io Io pure ho fatto Aia Dai da qui non ci posso Ma guarda che pezzo di Che cosa? Che pezzo di schifo Mi viene da dietro questo qua con la granata Ma sei solo Mi viene da dietro con la granata Che pezzo di schifo No, dai No, mi hai fottuto la kill Io ce l'ho andato col cecchino What? Ce l'ho andato col cecchino io Mi hai fottuto la kill Ecco C'è questo che Ragazzi Questa è un'arma fortissima Infatti è fortissimo Questo Mi fottono la kill col cecchino C'è il cecchino Così qua arrivano e mi fottono la kill Con la granata Addirittura Ma si devono vergognare Che ora te la lancio io Col cecchino con 300 Con 380 Con 380 di vita è rimasto Usando il cecchino Ci rimane con 380 di vita No vabbè Ragazzi avete visto dove è esplosa la bomba C'è no basta C'è no basta Mi cecchino No dai l'ultimo no Cosa? Non ci facciamo superare all'ultimo Che mincavolo Io sarò uno dei più scarsi forse No dai E no perché non sto facendo niente Tranquillo Buono sei in questa partita Sicuro ti metteranno fra i migliori No no C'è la gente che mi viene da dietro Madonna che schifo Vabbè no C'è il cecchino di Massimiliano No Vabbè abbiamo vinto Siamo 68 punti in su 2 1 No Non sono uno 3 migliori Chi te lo dici? Te lo dico io 3 migliori ci sono No ci sono io E tu? Ma cosa? Io no Ma cosa? Ma non ho fatto niente Io sono veggente Pobba Ragazzi purtroppo devo chiudere il video Ma tranquilli che domani ci rivedremo di nuovo insieme a GXMAX08 Nel video di Clash Royale Tanto e tranquilli Ci vediamo domani Ciao Bella raga Ciao 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 Grazie.